Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi siamo nella stella segreta della settimana numero 5 Quella delle sfide catastrofico, molto molto semplice Si trova esattamente tra E7 ed F7 Nella montagna praticamente quella vicino all'isola In poche parole quella di Lande Quindi una volta completate le sfide prendiamo la stella e ce la portiamo a casa Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video Noi rimaniamo in live Mi raccomando iscrivetevi al canale Un bel pollicione in su Ciao!